Ciao a tutti! So che dimostro 15 anni, che sono tutto sbarbato, ma in realtà pillola trash del giorno è dovuto al trash. Perché mi stavo accorciando la barba ma mi è partito il rasoio, quindi zaffata subito, e mi è rimasto un buco. Quindi ho detto togliere tutto, basta. Quindi semplicemente dovevo giustificare come sono messo oggi. E detto ciò, questa breve intro trash in realtà per un video che non è trash. Perché vi voglio consigliare un bel libro. Perché ogni tanto ci vuole. Anzi, dovrebbe essere una costante questa. Ma comunque ho letto un libro che veramente mi sento di consigliare a cuore aperto a tutti voi. Pur trattandosi di un'autobiografia musicale credo che possa interessare sia chi conosce bene il personaggio in questione e sia chi non ne sa nulla. È un libro, è uno di quei libri, e sono quelli che mi piacciono di più anche, che pur essendo estremamente di nicchia, riescono veramente a parlare a un pubblico ampio. Ed è il caso appunto di Girl in a Band, l'autobiografia di Kim Gordon, edita in Italia da Minimum Fax. Appena ho visto questo libro in biblioteca, subito ho detto mio! Nonostante avessi 250.000 libri in coda. E me lo sono goduto veramente. L'ho letto in un paio di giorni, si legge che è un piacere, ha un altissimo tasso di coinvolgimento, e leggendolo mi sono reso conto di quanto potesse effettivamente parlare anche a chi Kim Gordon non la conosce. Quindi state allerta, perché ora ve lo racconto. Allora, vabbè. Allora, Kim Gordon è la frontwoman e bassista di uno dei gruppi più epocali della storia della musica, ovvero i Sonic Youth. I Sonic Youth, band americana che ha cognato in un certo genere, in un certo senso, il termine, o comunque il sound, di uno dei sottogeneri del rock, ovvero il noise rock. Quindi melodie riconoscibili, ma allo stesso tempo grandissima attenzione alla sperimentazione e ai feedback, a riff belli possenti, aggressivi, selvaggi, senza alcun timore di iniziare a far rumore, cioè senza nessun timore di non essere orecchiabili, ma di invece puntare dritti a un rumore assordante e feroce, soprattutto. I Sonic Youth tra l'altro nascono negli anni Ottanta, che è il periodo in cui il synth-pop, il dance-pop andavano per la maggiore. C'erano addirittura critici musicali che giudicavano morto il rock and roll, per esempio. E i Sonic Youth, così come altre band che nascono dalla corrente della no-wave new yorkese, puntavano invece a questa controtendenza, quindi un rock ancora più selvaggio, più incontrollabile. Kim Gordon era appunto la frontwoman del gruppo, insieme al compagno marito Thurston Moore. Nel 2011 i Sonic Youth si sciolgono, così questo accade perché Thurston Moore e Kim Gordon si separano, quindi una separazione sia dal punto di vista sentimentale e sia dal punto di vista artistico. Prima di entrare nel libro vi lancio anche quest'altra perla trash. Se avete visto le mie recensioni, le mie autostruncature di Bad Taste, ovvero la saga Trash Horror di Matteo Fumagalli, vi ricorderete della girl band Evil. Bene, le Evil, scritto Evil, quindi Love al contrario, in realtà sono un omaggio ai Sonic Youth, perché il mio album preferito di Sonic Youth insieme a Daydream Nation è Evil, appunto, quindi era un omaggio all'epoca perché i Sonic Youth sono stati un pilastro nella mia formazione musicale, se vogliamo, uno dei gruppi che ho sentito di più in assoluto e che, leggendo questo libro, sono tornato a rispolverare la loro discografia, tornando sedicenne alternativo tra asgri e quindi ho adorato. Ma King Gordon, in realtà, è una personalità realmente affascinante ed è stato bellissimo leggere questa biografia. Perché? Perché molto spesso lei è stata dipinta come un'icona, anche di stile, alternative rock femminile. Sempre stata vista come gelida, algida, fredda, piuttosto misteriosa. E leggere, in un certo senso, questo libro dove invece lei si lascia andare, racconta se stessa e soprattutto si sofferma sulle sue vulnerabilità, sul suo dolore, le sue sofferenze, la sua intimità, è stato molto interessante perché lei ha questo modo di raccontare i suoi lati più vulnerabili con una forza incredibile. Ed è questo che la rende veramente una persona estremamente bella e interessante, almeno a conoscerla attraverso questo libro. È un libro dove lei racconta sì la sua vita, partendo dall'infanzia, soffermandosi naturalmente agli anni dei Sonic Youth, decenni di carriera, raccontando come nascevano i loro dischi, le loro canzoni, tutto il background che c'era dietro, per arrivare poi alla gravidanza, quindi alla nascita della figlia Coco e infine alla fine di un amore. La fine di un amore e di una storia, di una storia della sua carriera, ovvero i Sonic Youth, e ha in un certo senso anche la volontà di proseguire oltre. Quando si lasciano Kim Gordon e Thurston Moore per i media è uno shock, nel senso che è anche particolare questa cosa, perché è vero che i Sonic Youth sono una band molto molto famosa, ma allo stesso tempo sono estremamente underground, quindi il fatto che loro due abbiano lasciato un'impronta così forte, anche non dal punto di vista musicale, ma dal punto di vista di significato simbolico del loro rapporto, è interessante, perché per anni loro stati visti come la coppia di rockstar super innamorate, super affiatate, e poi in un certo senso erano simboliche anche da quel punto di vista, l'amore che dura, e vedere questo amore finire è stato veramente uno shock, ed è stata l'occasione per Kim Gordon di voltare pagina, e di ricominciare con le sue forze, prima a guardare indietro e a fare una revisione del suo passato, e poi a continuare ad andare avanti. E non è un caso che il libro viri verso la fine, non è uno spoiler naturalmente, su uno sguardo verso la figlia Coco, che nel frattempo ormai adolescente, prende la chitarra, prende il microfono e inizia anche lei a fare rock e a interessarsi alla musica, a comporre musica e a sfogarsi attraverso di essa, quindi in un certo senso c'è questo bellissimo sguardo di Kim Gordon madre verso la figlia, e un nuovo capitolo che si apre. Kim Gordon qui diciamo che si racconta sotto più punti di vista, dal punto di vista di donna, dal punto di vista di musicista e artista, dal punto di vista di madre, dal punto di vista di essere umano effettivamente, era estremamente forte. Uno dei grandi temi sin dal titolo è il suo essere donna, Girl in a Band, lei è l'unica donna dei Sonic Youth, membro dei Sonic Youth, ma allo stesso tempo è la leader, insieme appunto a Thurston. Molto spesso le è stata posta questa domanda nelle interviste che la irritava non poco e la imbarazzava, e non capiva perché le venisse fatta. Come ci si sente ad essere una donna del rock? E la stessa domanda le veniva posta in modo leggermente diverso una volta che ha dato alla luce la figlia Coco. Come ci si sente ad essere una mamma del rock? Ed è una cosa che lei non capiva, e che a cui rispondeva sempre con la risposta più banale, ma allo stesso tempo che lei sentiva come l'unica da fare. Sono una donna come le altre semplicemente a un lavoro di un certo tipo, cioè non è una domanda che capisco. Allo stesso modo dovresti porre una domanda a una rock star maschile e chiedergli come ci si sente ad essere un uomo del rock. Solo che da un certo punto di vista lei fa anche una riflessione sull'essere un genitore rock. Quindi molto spesso il padre rock star viene visto come il padre Fico e il padre Yeha, e la madre rock star invece è un po' diversa, viene vista sotto altre luci. Lei parla molto spesso, fa delle riflessioni su come si sentiva, come veniva rappresentata, ma anche come lei stessa voleva essere rappresentata nel corso della sua carriera, facendo delle riflessioni proprio a carattere femminile, su che cosa significhi essere una donna, la donna di una band. Perché comunque quello che emerge e quello che è sempre emerso e emerge tuttora tra l'altro è che nonostante che Kim Gordon comunque ha avuto effettivamente difficoltà con la sua rappresentazione, perché il mondo della musica, soprattutto la musica rock, è un mondo attraversato da una sottile misoginia, dove sembra essere dominato effettivamente dal mondo maschile. Lei fa riflessioni sulla rappresentazione femminile nella musica, parla delle Spice Girls, che sono un gruppo girl power però nato da discografici uomini, che le rappresentano secondo varie personalità ben definite, a rappresentare modelli di donna diversi. Kim Gordon per arrivare ad essere effettivamente se stessa ci ha messo tanto, nonostante sia una donna forte, anticonformista, a temeva di apparire troppo femminile per essere catalogata in un determinato modo, e poi ha iniziato pian piano a costruirsi effettivamente e ad essere se stessa libera. Fa delle riflessioni anche sulle altre musiciste, ad esempio è molto interessante la visione che ha su Madonna, Madonna è vero che sfrutta la sua sensualità, ma da un certo punto di vista lei è sempre padrona della sua sensualità, non dà mai, o almeno qua parla soprattutto degli anni 80 di Madonna, non dà mai quasi l'impressione che stia, sia vista sotto uno, da uno sguardo maschile, no? È lei che ha il controllo, è lei che decide di amarsi, di amare il suo corpo, perché agli esordi Madonna adesso è super scolpita, però agli esordi era anche un pochino rotondetta, eppure dimostrava le sue curve con estrema gioia, con estremo orgoglio, no? Ed era sfacciata, ed era rock in quel senso anche. Lei fa riflessioni anche, lei lancia delle shade a Lana del Rey, tra l'altro, in questo libro, quindi se vi piace Lana del Rey preparatevi, lei la distrugge sostanzialmente, soprattutto sull'immagine di rappresentazione e sulla sua romanticizzazione di tutto ciò che è definito trasgri del passato USA, e fa delle riflessioni proprio a carattere anche di rappresentazione musicale, ed è una cosa che a me è piaciuta molto e che porta a riflettere, perché è vero che racconta la sua vita, però allo stesso tempo fa un discorso attraverso se stessa veramente generale, che porta a riflessioni profonde. Poi sono molto toccanti i momenti in cui parla anche di persone con cui ha collaborato, soprattutto icone del rock, ad esempio molto toccanti i momenti con Kurt Cobain, lei è stata per molto tempo legata col Cobain, ha anche lavorato in Last Days, il film di Gus Van Sun, sugli ultimi giorni di Kurt, e i momenti in cui lei parla di Kurt si percepisce veramente un'emotività forte. King Gordon non è una scrittrice di romanzi, non lo scrive per essere letteraria, però si percepisce da queste pagine una vera forza emotiva e una capacità a leggersi dentro realmente feroce, anche quando parla dei suoi lati più deboli, più vulnerabili, le sue sofferenze, lei ha questa grinta che veramente è in un certo senso empowering e piace veramente leggere, conversare con lei, diventa un'amica effettivamente nel corso della lettura, nonostante lei sia un'icona intoccabile. C'è un universo che viene qui descritto attraverso vari temi musicali e non, che colpisce veramente anche banalmente le riflessioni riguardo all'amore che finisce, all'invecchiare, al voltare pagina, sono realmente poco banali e molto d'impatto. Quindi questo libro io ve lo consiglio, lo trovo un'ottima lettura per avvicinarsi all'arte dei Sonic Youth e allo stesso tempo anche, proprio come lettura in sé, secondo me sarà veramente appetibile sia a chi conosce già il gruppo e sia a chi non ne sa nulla, perché le riflessioni che porta, il tipo di racconto che fa, le trovo realmente interessanti e super coinvolgenti. Questo era Girl in a Band, l'autobiografia di Kim Gordon. Fatemi sapere se l'avete letto, non l'avete letto, se vi è piaciuto, non vi è piaciuto. Io vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione e ciao ciao!